Musica Benvenuti al seminario Buone Pratti e Occursionità Lavorative il seminario organizzato dall'ISFOL in collaborazione con la Regione Molise. Quindi saluto gli amici dell'ISFOL che ci hanno dato questa mano su questo progetto. La provincia ha voluto essere vicina a questo progetto molto interessante. Si è prodotto questo documento strategico come vedete per l'inserimento lavorativo delle persone con disargo psichico. Tra gli allegati c'è stato l'allegato delle buone prassi. Come vedete noi abbiamo l'ISFOL che ha voluto costituire di due grandi gruppi di lavoro. Uno ha lavorato maggiormente. Come vedete l'obiettivo generale di questo, perché sia a Campobasso che a Termoli e a Sede, vi faccio portavoce per questo anche di Corriere. Ovviamente abbiamo cercato di lavorare sull'ISFOL. Perché se la regione ha rotto questo documento, sicuramente vi incontro le nostre persone. L'ISFOL è la casa nella quale noi vorremmo accogliere tutti i nostri progetti del solidare. Il primo di questi progetti sono proprio i talent scout. Cioè questi braccialetti vengono fatti da una cooperativa, al momento è una cooperativa laboratorio aperto, di ragazzi con disturbi psichici. Sono qui per parlarvi dell'esperienza del www.rsmcampobasso.it dal momento che la cooperativa gestisce l'ente gestore di questo sito che nasce all'interno del percorso delle buone prassi per l'inserimento lavorativo dei nostri utenti psichiatrici. Qui la nostra home page rappresenta un progetto efficace e di notevole impatto, sia in termini proprio di ricaduta terapeutica per i nostri utenti inseriti al lavoro, e sia in termini di politiche attive, perché a tutt'oggi è un'esperienza imprenditoriale consolidata che ha anche buoni margini di redditività appunto. Ovviamente abbiamo una relazione, perché comunque è un prodotto di stampo giornalistico, un web designer che si occupa di una testa grafica bellissima. Abbiamo effettuato una serie di inserimenti lavorativi, e oggi appunto cercherò di presentarvi, di ripercorrere un pochino le tappe. In generale comunque le problematiche, a parte appunto alcuni casi, sono state sostanzialmente collocabili in un normale quadro di dinamiche relazionali presenti in un ambiente di lavoro. in modo tale che la buona pratica realizzata in un posto, poi con i sensi del rinco di vita. e in fondo con il cielo, con il fango.